salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi vi porterò un video davvero insolito infatti chi mi segue saprà che questo genere di video non è mai stato fatto sul mio canale e c'è un motivo infatti devo ammettere che sono totalmente ma totalmente incapace di disegnare ebbene sì sono una frana ci ho sempre provato mi è sempre piaciuto ma non ne sono mai stato capace quest'oggi invece ci sarà un'eccezione ebbene sì sono stato in grado di disegnare qualcosa wow voi vi chiederete come hai fatto a fare una cosa simile se non sei capace beh semplice ho seguito dei tutorial di fraffrog per chi non la conoscesse metto il link in descrizione andate sulla sua pagina mettetevi tutti quanti mi piace iscrivetevi tantissimi complimenti condividete e ve lo ordino no scherzo non ve lo ordino però se guardate il suo canale è una cosa che verrà automatica perché merita davvero ora dopo la marchetta che ho fatto che non ne ha bisogno perché decisamente fin troppo famosa già da sé infatti molti di voi già la conosceranno dopo questa marchetta stavo dicendo passiamo al risultato ecco cosa ho disegnato grazie a lei voilà vi piace siete stupiti fa cagare scrivete nei commenti le vostre opinioni ciò che conta in questo momento però non è tanto il disegno in sé ma il fatto che sono riuscito a farlo io dove il massimo che riuscivo a disegnare era qualcosa tipo questo questa è la mia massima abilità no scherzo sono leggermente più bravino però questo disegno qui è stato qualcosa che ha sorpreso persino me che l'ho disegnato non ho una tavoletta grafica e non ho appunto come ho detto prima praticamente nessuna abilità nel disegno cioè sono partito da zero quindi perché ho fatto questo video semplicemente perché volevo far rendere conto diciamo chi non sa disegnare che seguendo i giusti tutorial è possibile fare qualcosa di decente sono rimasto sorpreso io stesso quindi vi consiglio di andare sul canale di frafrock e vedere i suoi video tutorial perché a quanto pare funzionano anche molto bene e se vi interessa vi mostro come sono uscito ad arrivare a questo risultato allora tutto è iniziato dall'ultimo video di frafrock continualo tu 2 la vendetta in questo video lei fornisce un bozzetto che ha disegnato e ognuno di noi può continuarlo come meglio crede in descrizione ovviamente metterò il link se vi interessa così potete partecipare anche voi inizialmente non volevo partecipare ho detto proviamo solo a vedere cosa ne esce fuori così giusto per gioco perché non credevo che riuscissi a fare qualcosa di decente il bozzetto che ha fornito è tizio brutto nome messo da lei mi raccomando non l'ho scelto io quando l'ho visto mi ha subito ricordato un personaggio di final fantasy 9 quindi la prima cosa che ho fatto è stato cercare questo personaggio su internet per diciamo sfruttarlo nella mia opera sì le mie sono opere dopo varie ricerche ho trovato questa immagine eccolo qui il nostro caro amichetto non so il perché ma il tizio brutto mi ha subito ricordato questo cosariello e ho deciso di approfittarne dopo aver trovato questa immagine l'ho desaturizzata in modo tale da eliminare i colori eccola qui e farla diventare così questo perché sarà una cosa mia ma in bianco e nero riesco a vedere meglio diciamo le linee dei contorni e cose simili e mi risultava più facile applicarle al mio disegno con questa immagine come esempio sono passato a tracciare le linee di contorno del mio disegno chiamato line art come con il mouse non avendo una tavoletta grafica dove usare forse il mouse e sfruttando il tutorial di fraffron disegnare con il mouse ebbene sì e sono arrivato a questo risultato voilà ora voi non vedrete niente perché se notate negli effetti sta sovrapposizione colore cioè nero inizialmente il colore era rosso per riuscire a vedere qualcosa questo è il contorno di base uscito fuori seguendo questo esempio e il disegno di base tizio brutto una volta disegnate tutte queste linee grazie allo strumento pinna e seguendo la guida di fraffron sono passato ai colori seguendo come esempio questa immagine qui e ho aggiunto i colori eccoli qua così sono tutti i nostri bellissimi colori poi aggiunto come vedete sono altri livelli di colore perché perché con i colori vanno sovrapposti e durante il lavoro viene naturale aggiungere livelli così a non finire comunque aggiungendo altri colori da un po ecco sì si sono aggiunti dei dettagli come dei colori qui ecco quei colori quale scarpete il tizio qui colore occhi sta a parte non sono anche io bene perché ma l'ho messo a parte dopodiché bisognava aggiungere le ombre quindi sempre seguendo i tutorial di francesca ho aggiunto le ombre in un altro livello ed ecco qua e diamo più profondità al nostro disegno poi ho aggiunto uno sfondo eccolo qui anche in questo caso lo sfondo come ho fatto prima ho fatto una linea una linea arti di sfondo che è una linea in effetti non ho fatto niente poi ho aggiunto questa che è un'immagine di montagna che dà un tocco più figo e poi uno sfondo base eccolo qua se volete sapere come ho fatto lo sfondo ho preso il pennello pennellato lo sfondo molto semplice notate che qui la nuvola è tutta fatta pezzotta perché perché ho già aggiunto nel livello dei colori e delle ombre ma non ho aggiunto la line art della della nuvola quindi aggiungiamo la line art della nuvola nuvoletta line art eccola ovviamente ho disegnato prima la line art della nuvola e poi aggiunto i colori e le ombre al di sotto così come ho fatto questo disegno qui troviamo anche il livello dettagli che come vedete alcune linee l'ho aggiunta in un secondo momento per dargli un tocco un pochino più caruccio e poi sono passato alla nuvoletta la nuvoletta è formato dal colore della nuvola all'interno come vedete non bisogna essere molto precisi alla fine il risultato finale viene grazie alla sovrapposizione dei livelli dirlo così è un po difficile ma è molto più semplice quello che sembra comunque andiamo avanti ho aggiunto vediamo un po con la ranocchia la scritta sotto che non l'ho disegnata io penso semplicemente un lo strumento scritta un fondo particolare ed è uscita così poi nella nuvoletta ci sta la ranocchia che ovviamente fraffro e poi le varie rane 1 2 3 e voilà il disegno è praticamente finito la line art rossa ovviamente lo dove si trovava dove si trovava ci ho messo l'effetto posizione colore nero in modo da questo colore forte nero il tizio brutto non si nota più ma ovviamente li togliamo questi due livelli perché sono coperti dallo sfondo e ho aggiunto il mio logo che ho fatto a parte fine detta così può sembrare difficile come cosa ma non lo è affatto per fare questo disegno compresa la ricerca delle immagini guardando i tutorial riguardando i tutorial ho impiegato tre barra quattro rette non so quanto tempo sia in effetti per chi è capace a disegnare per me che sono incapace è pochissimo normalmente non avrei mai fatto una cosa simile neanche in 24.202 ore spero vi piaccia fatemelo sapere magari nei commenti io mi sento soddisfatto lo stesso perché per i miei standard questo è un lavoro e con questo è tutto morale della favola e del video è se non siete in grado di disegnare pensate che per farlo è necessario una tavoletta grafica vi sbagliate vi rimando al canale di fraffro per vedere i suoi tutorial e capire bene come sono riuscito a ottenere questo risultato se vi interessa e vi auguro una buona giornata ci si vede al prossimo video ciao ciao